Palla 2 che viene alzata proprio in questo momento dal primo arbitro dell'incontro Puccini a rimbalzo, già spinge sulla transizione per Micoli che prende il catch and shoot da 3 punti Intanto Parmesani ad attaccare in 1 contro 1 di forza contro Milazzo che le deve dei centimetri Adesso Washington che prova a trovare Dedic per il primo canestro dalla media distanza Katzmarcin ancora per Washington che va subito in 1 contro 1 fino in fondo ad appoggiare Doppio blocco Milazzo che penetra e scarica per Katzmarcin che si alza da 3 punti e mette la tripla Che non segnano più da un paio di minuti, qui bellissima palla in transizione per Treffers La giocatrice di Luca 14 a 9 più 5 comunque per la formazione ospite Qui l'1 contro 1 di Guarise, poi comunque solo sotto di 2 punti Qui la palla dentro per Pastrello, Luca però 4 su 12 per un 33% Sammartino però solo un 21%, qui di nuovo la palla nelle mani di Washington Il blocco di Katzmarcin, Washington che si prende il palleggio, arresto e tiro Washington permette il recupero da parte di Luca con Natali Si prende la tripla in transizione, blocco poi di Gigli ancora Bucchetti in 1 contro 1 col penetra e scarica per Morrison Che si prende il palleggio, arresto e tiro Morrison a recuperare il rimbalzo, palla dentro, bella per Micoli Torna nelle mani Milazzo, il blocco per Katzmarcin, ancora Milazzo col palleggio vivo Fino in fondo ad appoggiare di Tavellone Che torna in angolo, ancora fuori per Pastrello Non c'è stato ribaltamento di lato Taglia la conclusione, Milazzo a rimbalzo Subito a springere in transizione, la palla in backdoor per Washington Dall'altra parte subito in 1 contro 1 Le finte di Milazzo, la palla sotto per Dedic Palla per Milazzo, in angolo per Dedic Che fronteggia il canestro, si prende il tiro da 2 punti Di nuovo Bucchetti che riceve palla Poi lo step back di Bucchetti da 3 punti Che vuole giocare l'1 contro 1, ribaltamento di lato per Bucchetti Che si alza da 3 punti, altra tripla Qui ci prova Parmesani con l'1 contro 1 La virata, il tiro cadendo indietro Milazzo che aspetta il movimento delle compagne Il backdoor di Washington Classico gioco, palla che si muove Intanto arriva nelle mani di Dedic Che si gira e prende il tiro Bucchetti col palleggio vivo Il palla in punta per Micoli Che prende il tiro Dici bene, lavora proprio per Qua bellissimo l'assist Con la palla per Treffer Che parte in 1 contro 1 Si appoggia al tabellone Per incitare i propri giocatrici Qui l'1 contro 1 di Washington Che di forza Finta il tiro da 3 punti Tornano a Treffer Treffer che dovrà forzare Perché mancano 4 secondi Si alza e realizza L'1 contro 1 di Milazzo Sotto la palla per Russo Che realizza il canestro Che cerca di andare da La palla arriva sotto Bellissimo Di Bucchetti che dovrà forzare Perché stanno scadendo i 24 secondi E realizza Difficile riportarsi a casa la partita Ci prova lo station Washington Ritorna sul suo blocco Milazzo che poi si alza E prende il palleggio Arresto e tiro Poi c'è il blocco Morrison che va in 1 contro 1 Lo scarico interno Per Treffer Finisce così allora A San Martino di Lupini La quarta giornata Della Serie 1 Targata Tech Final